Tenente, ma se ci fosse stata una scintilla all'interno di quella garage, staremmo a parlare di una disgrazia vera e propria? Sì, staremmo a parlare di una disgrazia vera e propria. Il servizio dell'altro giorno ha permesso di scoprire come effettivamente ci fosse ai piedi di un condominio un vero e proprio deposito di gas abusivo che se ci fosse stato un incidente dovuto a una fuoco di gas avrebbe provocato un danno esteso. I militari pertanto sono intervenuti, hanno scoperto in un garage una capacità di accumulo di gas potenziale di quasi 4 tonnellate. Effettivamente c'erano soltanto 800 kg che comunque sarebbero stati sufficienti a causare un disastro. Il cliente che si rivolge al commerciante che vende le bombole di GPL abusivamente è chiaro che ha un risparmio? Sì, è stato calcolato il prezzo di mercato delle bombole sequestrate, siamo intorno ai 5.000 euro, più o meno una bombola, a seconda anche poi bisogna vedere le dimensioni, più o meno sui 20 euro. Ciò che rileva è il danno potenziale di una condotta di questo tipo. Soprattutto l'intervento è stato fatto in questo periodo perché dato l'approssimarsi dell'inverno il fenomeno del commercio abusivo di gas è sicuramente molto più esteso. Nessuno dei residenti della zona vi ha detto che in quella strada, in quella zona, purtroppo c'erano via vai di gente in merito proprio alla custodia delle bombole abusive di GPL? No, diciamo che l'intervento è nato qualche giorno fa studiando da vicino i soggetti che maggiormente si prestavano a questo tipo di condotte abusive, studiando per esempio lo spostamento dei mezzi e quant'altro. L'intervento è nato quando si è visto il furgone con le bombole caricate uscire dal magazzino, dal garage e iniziare la sua normale giornata lavorativa e da lì poi ci si è resi conto della gravità della situazione e si è intervenuti grazie anche e soprattutto alla componente antiterrorismo e pronti impiego della Guardia di Finanza che ha permesso contemporaneamente di effettuare altri tre accessi in un altro deposito accontrato a Giardinelli dove sono state rinvenute altre bombole piene e vuote.